Abbiamo qualche notizia in più per quello che riguarda il contratto di Calabria, ne abbiamo parlato nel video di questa mattina. Il giocatore che prendeva 1-100 potrebbe trovare un accordo con il Milan intorno ai 2-2-2-3. Il Milan vorrebbe dare 2, che è praticamente quasi il doppio di quello che prende Calabria, che merita ovviamente un importante adeguamento, visto che un terzino ormai nell'ambito della nazionale, anche se non è stato convocato per gli europei, ma nelle prossime convocazioni, nei prossimi anche per le qualificazioni mondiali, sarà certamente uno dei protagonisti se continua su questa linea splendida. Quindi un accordo si potrebbe trovare, visto che il giocatore vorrebbe magari qualcosina in più. Il Milan sembra che gli abbia proposto un quinquennale fino al 2026. Ci sono delle voci che parlano di una richiesta magari di un anno o due anni meno, ma magari una cifra leggermente più alta. Comunque ho detto una fumata ieri era grigio-oscuro, ma dovrebbe presto tramutarsi in una fumata bianca. Quindi innanzitutto volevo chiarire subito questo punto. Ieri si è rivelata infondata la voce di Ramadani in sede del Milan, non è stata assolutamente confermata. Quindi tutto quello che è venuto dietro questa linea non dico la voce assurda Vlaovic, che non ha nessun senso in questo momento e credo in tutto il mercato, ma anche la linea Under, il giocatore turco sulla fascia destra, credo che non abbia in questo momento molto, non siano notizie molto fondate. Ma alla gente, alla gente rossonera, al popolo rossonero, ai tifosi rossoneri, tifosi rossoneri vogliono, chiedono, vogliono notizie se ci siano dei nomi, dei nomi caldi. Signori, i nomi caldi non è che possano essere sfornati tutti i giorni. Il Milan si sta guardando intorno, si sta cercando di capire le opportunità. L'europeo in questo senso sarà importante perché magari rivaluterà dei giocatori magari adesso non considerati dei top, oppure farà scendere il costo di altri giocatori che magari vengono ritenuti oggi dei giocatori di alto valore. Insomma, l'europeo potrebbe essere un'altra bella vetrina, un altro bel negozio per capire quali possano essere le scelte delle squadre. Squadre che in questo momento sono tutte guardinghe. Alcune hanno appena cambiato allenatore e incominciano le riunioni per capire quali siano i giocatori da prendere, coi nuovi allenatori, coi dirigenti. Quindi una situazione in questo momento molto, molto, molto magmatica. E dunque, nomi, un tema potrebbe essere questo. Ma il Milan, fin quando eventualmente, sottolineo dieci volte eventualmente, aspetterà Cialanoglu? Abbiamo detto, e non lo dimentichiamo, Cialanoglu siamo quasi alla fine, proprio perché il Milan dice che non ho notizie, ci sono voci su Depol e quindi vediamo. Però c'è già una tendenza, non certo che parla di un Milan alla ricerca di Cialanoglu, ma una tendenza che dice che il giocatore si stia ponendo i problemi. Paratici che sembrava fosse interessato al giocatore non è più della Juventus, ieri ha dato il suo addio. Poi, per quello che riguarda invece il Qatar, sembra un'assunzione non ottimale per il giocatore. Ma mi piacerebbe che anche voi mi diceste, ma Cialanoglu, sarebbe opportuno insistere tenerlo oppure lasciarlo andare a cercare una squadra e il Milan trovare un valido sostituto. È una domanda, è un sondaggio, è una domanda che mi faccio anch'io. Indubbiamente il Cialanoglu dei primi tre, quattro mesi della stagione è stato un Cialanoglu importante, fondamentale, trascinatore, leader della squadra. Poi, dopo i problemi che ha avuto, non è più riuscito a, diciamo, esprimersi ai massimi livelli. Anche nel finale, sempre generoso, sempre importante nella manovra, sempre un riferimento, ma senza il guizzo di qualità che ci si aspettava. Quindi il costo, l'ingaggio, quattro milioni, è certamente un ingaggio sostenibile per il Milan, oltre certamente no. Dunque, anch'io ho qualche perplessità. Indubbiamente sono molto affascinato dal nome di De Paul, ma se ci incartiamo sul nome di De Paul, poi rischiamo di perdere un po' la visione generale di altri giocatori, di altre figure. Io, se rimanesse Cialanoglu, certo, sarei contento, ma indubbiamente andrei a cercare qualche altro giocatore di livello, perché lì è il ruolo focale di tutta la manovra del 4-2-3-1, voluto e studiato da Pioli. C'è anche il problema a Brian Diaz. A Brian Diaz sembra che il Milan, il voce di queste ultime ore, chieda magari un rinnovo del prestito, magari non più con rinnovo, ma con diritto di riscatto, ma obbligo di riscatto. E può darsi che il Real Madrid possa prendere in seria considerazione questa ipotesi. Certamente tutto dipenderà anche da Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti cosa pensa di Brian Diaz, se lo ritenga giocatore importante per il futuro del Real Madrid o no? Io non so, il Real Madrid ha 33 giocatori, ha già detto Carlo che deve essere sfoltita la rosa. Il Milan ne potrebbe approfittare, potrebbe dunque chiedere ancora un anno di prestito, magari invece che diritto obbligo di riscatto. È un giocatore che col numero 10 ha caratteristiche diverse, però è stato protagonista anche della pur dolorosa sconfitta della Spagna contro il Portogallo, che ha portato in finale nell'Under 21 due giocatori rossoneri come Leao e Dalot, anche se adesso Dalot non è, possiamo più considerarlo perché penso che rimanga a Manchester. Dunque, Brian Diaz può essere un'alternativa in tanti ruoli, un giocatore che può crescere, è un giocatore dalle eccellenti qualità balistiche a livello di dribbling, è uno dei famosi giocatori che cerca pioli e che può trovare pioli in casa come Brian Diaz, il giocatore che salti l'uomo. Per quello che riguarda Aughe, ritengo che ci siano poche possibilità che rimanga al Milan perché il giocatore potrebbe essere inserito in qualche trattativa importante come contropartita tecnica, oppure potrebbero esserci dei soldi freschi, del denaro fresco dai 10 ai 20 milioni di euro, con questa forchetta potrebbe essere la cessione di Aughe, avendo Giroud, Ibrahimovic davanti insieme all'eventuale giocatore nuovo, giovane come centravanti che possa alternarsi a Giroud e a Ibrahimovic e possa nel frattempo crescere. A sinistra Leao Rebic, a destra Selemeker ed eventualmente un giocatore dal fiuto del gol al migliore di Castiglieco, ecco che Aughe troverebbe poco spazio, potrebbe non essere valorizzato quanto merita un giocatore serio, un giocatore che si impegna, un giocatore dalle buone qualità e soprattutto dal fiuto del gol che ha dimostrato contro il Milan e nel Milan. Se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like e iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegano.